oh cacchio via vai via via ragazzi che stanchezza dopo l'ultimo ma stiamo scherzando via fuori 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 questa fuori va bene lego tutto colpo specialia oh dove è la mia spada oh cacchio no 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 Muori Per un pelo Non posso neanche stare tranquillo a casa mia Ma guardate un po' Allora, va bene Che stanchezza Meglio andare a dormire Oh cacchio, sembra un po' Sembra un po' cospino Ciao a tutti ragazzi e bentornati In questo nuovo video Ragazzi, la mia armatura è praticamente rotta Adesso, cioè, mancano questi due Poi si romperà definitivamente Comunque, fatemi fare un secondo colazione Buonissima Ok, allora Prima di iniziare il video mi aveva chiamato Giacomo, eccola Oh cacchio Sta per essere attaccato da un zombie Lascia stare Giacomo, perfetto Allora Aspetta, chi è Giacomo dei due due? Eh, fratelli di gemelli è difficile, sei tu? Ok, Giacomo, mi stavi dicendo? Ma com'è? Ma com'è tra due giorni è Natale? Ma me lo dice adesso? Cioè, io non ho ancora Ma Giacomo, ma perché me lo dice adesso? Cacchio ragazzi Tra due giorni è Natale E io non ho ancora fatto l'albero di Natale Beh, credo che questo albero potrà andare bene Spero Perché è l'unico albero gigantesco Sì, me lo farò andare bene Allora, devo decorarlo Come posso decorarlo? Ovviamente, vabbè Con le luci, quale di neve La neve, eccetera Allora, vediamo un po' Cosa ho qui dentro Eh, qui Dovevo anche preparare da mangiare Ma che cacchio? Sì, vabbè Due giorni prima di Natale Come si fa? Allora, vediamo un po' Vediamo un po' Qui non ho niente Guarda, guarda Organizziamoci un secondo le cose Allora Qui abbiamo I menari Ok, prima c'è un attimo le cose Il cibo, eccetera L'acqua L'acqua non so cosa sia Ma me la portavo stesso Ok, la palla La palla ce l'ho Ok, ok, ok Organizziamoci un secondo Due giorni di Natale Ragazzi Non è molto facile Allora Direi di usare questo albero qui Allora, vediamo un po' Cosa possiamo decorarlo Ovviamente ci serviranno le palle Poi, poi, poi Che ne so La neve Poi decorare l'intorno E anche La luce Quindi, allora Prima cosa da fare, ragazzi Recuperare La neve Recuperare la neve Ok, ma la neve dove la trovo? Aspetta L'avevo visto le montagne all'inizio Magari Spero ci sia della neve Dopo vedremo anche Cosa dobbiamo raccogliere Cacchio Vado a sbrigarmi Oh, meno male, ragazzi Dove sorgerà la mia futura casa? Ci sono C'è un po' di neve Ok, sono quasi arrivati Pausa pranzo Perfetto Dai, forza, forza Sono quasi in cima Ancora un piccolo sforzo Noi, noi, noi Ok, perfetto Bene, 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 bene Allora, andiamo un po' Prendiamo un bel po' di neve Un bel po' di neve Ok, direi che Questi stack Spero andranno bene Adesso un bel Tuffo Le Ok, 3, 2, 1 Via Oh, cacchio Cacchio Prendiamo un bel po' di neve Perfetto Ok, adesso però mi serviranno anche le pale di neve Cioè, le pale Le Le pale da mettere sui alberi Ma come posso usare Le Quali uso? Potrei usare la lana? Sì, ma io non ho tanta lana a casa Ebbè Facile Dove sono le pecore? Eccole una Aspetta Ho la cesuia Eccola qui Pecora Fermi Vieni qua Vieni qua Ok, però ce n'è solo una E una non mi basterà Ma Cioè, non mi Ho Ho Un'altra Sì, però me ne serve di più Quanti ne ho? Ne ho Ma aspetta Ma questo non si può modificare Io La La lana grigia sull'albero di Natalia Non ce lo voglio mettere Allora, andiamo a vedere se qui sopra c'è qualche C'è qualche pecorella Sì, vabbè, ma La preferirei bianca Ma qui c'è nera e grigia Spero si possa modificare Altrimenti Non saprei cosa fare Ma aspetta Potevo fare una cosa del genere Così E così Cacchio Muovetevi e crescerevo due Dove è colorante bianco Contorna bianca Perfetto Grazie Ok A sto punto ragazzi Aspettiamo Perfetto ragazzi Ho raccolto 26 pezzi di lana bianca E in più Anche Un po' di cibo Così almeno per il ringraziamento Cioè il ringraziamento Per la festa Stiamo a posto Prendiamo anche Un po' di Colorante Un po' di fiori blu Così ci facciamo il colorante blu Ci sono altri fiori di vario tipo Qui in giro No ci sono solo le margherite Lì meglio non andare Ok direi che possiamo Cominciare Scusa amico ma Questa è una Cioè questa è che dobbiamo Te Non lo vuoi Va bene Tieni Ok tieni Non ti piace? Sì ma fuori Se fai così Babbo natale non ti porterà Ah vabbè Lasciamo stargli Allora Cominciamo a mettere Tutto il cibo Vediamo un po' Qui cosa che ho Ho Il costoletto di maiale E il bovino Beh Allora mettiamo Queste qui A cuocere Beh direi che può andare Allora aspetta La crafting table Com'è che si crafta Così? No no aspetta Così Esatto Però Ne abbiamo 30 Queste qui invece Le posso anche Rottare via Ora me ne servono Se non sbaglio 4 Per una cosa Che devo fare dopo E per adesso Ne facciamo No aspetta no Però così sono troppe Ne facciamo 24 Che dovrebbero bastare Ecco Aspetta no no Scherzavo Ho preso anche un po' di erba Da mettere qui in giro Per dopo Quindi questa erba La mettiamo qui Il colorante Vediamo giallo Blu Nero mi servirà dopo E il rosso Quindi facciamo una cosa Adesso sono 26 Diamo 3 colori Suddividiamoli per così Perfetto Quindi questi qua Sono 5 Sono 8 Io ne ho solo 95 Facciamo così Ne ho 5 qua Questi sono 9 Io ne ho comunque 5 Facciamo 5 di questi E invece Di questi qua Ne ho 7 E di gialli Ne faremo 7 Ecco qua Bene perfetto Adesso dobbiamo solamente Vedere come metterli Poi ci mettiamo Oh Gianni Allora Com'è l'albero Bello Sì Come fa schifo Provaci tu allora Ecco Bravo Mettiamoci ragazzi Anche un po' di neve Qua sopra E qua E l'ultimo L'ultimo Lo mettiamo Qui sopra Adesso Io Ma Gianni Ma cosa Scusate Mi pare L'occasione Di Cioè No No Cosa ci ho fatto tutti a casa mia Volete uscire Sì va bene La festa E La festa Non è oggi È a Natale Quindi Ma volete andare via Siete in anticipo per la festa Andate via fuori E va Voglio non stare qua Che ci posso fare Adesso Ragazzi Proviamo un po' Cosa c'è ancora Qui da poter aggiungere Allora abbiamo Ah sì Dobbiamo fare Le lanterne Qui ho solo nove Facciamo le nove qua E prendiamo tutto il ferro Che ho a questo punto Lì anche il ferro Qui Qua intanto Lo trasformiamo Quindi Cominciamo a fare 30 Minchia 32 32 torce E di ferro Abbiamo Uno stack e mezzo Di pepita Perfetto Possiamo farne Dici Minchia Dicianove Sono rimasto con una pittà di ferro Devo tornare in caverna Ma non è vero Dai Vabbè Andiamo un po' Mettiamo Spero che così La neve non si sciolga Ma non posso metterlo sull'albero Ma non è vero Non posso metterlo sull'albero E vabbè Le mettiamo sopra le palle Non c'è nessun problema Una qui Una qui Oh cacchio ragazzi Domani è la vigilia E io ho solamente Quasi Quasi Completato l'albero Ok Allora Prima di tutto Del cibo Che sto morendo La fame Sì però Io non lo voglio Un compagno di Vabbè Stai qua Ma ci prendiamo in giro Via Fuori 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 Che brutta scena Ok Allora Oggi è il 24 Ragazzi Domani è natale Devo muovermi Devo muovermi Devo muovermi Devo muovermi Cioè Ho fatto l'incontrario Di solito La parte dietro Dove non si vede È vuota E la parte davanti È piena Io invece ho fatto la parte Ho fatto la parte davanti Piena E la parte dietro Vuota Cioè la parte dietro Piena E la parte davanti Vuota Ehm Ups Ci manca la stella in cima Questo lasciamolo La stella in cima Cosa possiamo fare Per la stella in cima Non so cosa potremmo fare Quanta lana ho? Ho 5 pezzicchi di lana E ancora 18 blocchi Neve Se prendo Il colorante giallo Posso provare a fare Una bella cosa Con la lana Che ho adesso Faccio un po' di parkour Faccio schifo Io fare parkour Ok Facciamo una cosa del genere 1 2 E 3 Mancherebbero altri due pezzi Da mettere a lato Però dopo Lì andremo a prendere Adesso Pensiamo Al tavolo Il tavolo Allora il tavolo Per fortuna I blocchi del tavolo Ma cosa Vabbè Per fortuna Un po' di cose Per il tavolo Ce le ho Sì ma avete rotto le palli A fare avanti e indietro Però eh Allora il tavolo Possiamo farlo Anche Qui ragazzi Quindi Cominciamo Questo qui Saranno le basi Ovviamente un posto Qua Facciamolo Così Così E così Perfetto Ora Mi serve Una carta in table Non ci voglio andare in casa Me la faccio qua Tanto Ho scagliato 8 scagliati Non basto Ma neanche Se mettiamo tutti così Ora mettiamo questi Mettiamo i posti qua Un posto Un altro posto qui Un posto qua Un posto qui E un posto qui Perfetto Adesso Mi basterà Che appare Chiare la tavola Perfetto Ragazzi Ho recuperato Un po' di pelle Così Ne ho recuperati Quattro Quattro posti Ce la possiamo fare Allora Bene Quindi Mi stick Cedio Facciamolo Quattro Eccoli qua Piatto Da mangiare Da mangiare Ho solamente questi qua Verrò Che grazie Mettiamo un polletto Riporzante Ok Ho qualcos'altro Questa qui È Esclusiva Per il cibo Questo Bene Adesso Ci vuole la torta Ovviamente Non posso fare il panettone Perché costa troppo Quindi farò una torta Allora Però mi serviranno Dei secchi E ne ho solamente Eh ragazzi Questo può essere un problema Perché mi servirebbero Tre secchi di latte E io ne ho solamente Due Quindi Dovrò andare a scavare Perfetto ragazzi Ho fatto un altro secchio Adesso Cosa mi serve ancora Tutto un casino Non capisco più niente Devo mandare la lettera Ovviamente Devo scrivere Quello che voglio io Cacchio Eh Questo potrebbe essere Un problema Allora No per favore Cioè il mio amico Cosa che mi dai Affinità Nell'acqua Buono Si dai Però Allora Ecco qua Ovviamente Devo fare la letterina Quindi allora Facciamo dei fogli Come si facevano i fogli Come si facevano i fogli Che si ricorda Quante me ne servono Per fare un libro Mi serve anche la pelle Io la pelle Non ne ho più Perfetto ragazzi Ho recuperato anche Altre Cinque pezzetti Di cuoio Questo qui Ancora qui Non si vuole Avare E il libro Teoricamente No Aspetta il libro Come si faceva il libro Non mi ricordo più Si faceva così Ah perfetto E poi se non sbaglio Per fare il libro Con Il Il coso Bisogna fare così Bene ragazzi Ok allora Scriviamo subito Later Caro Babbo Natale Mi Pia Piacerebbe Avere Per Per me ragazzi Leo Aspetta la facciamo così va Per me ragazzi Vorrei Un bellissimo Vediamo un po' Uno scudo Scudo Di Capitan Ops Capitan Oh ce la faccio Capitan America Standard di Armas Per il cane Facciamo Delle ossa Ossa E tu Venom Cosa vuoi Patatine E cioccolata Venom Patatine E Cioccolata Perfetto ragazzi Fatto Adesso Dov'è Gianni 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 Ok perfetto Gianni Ecco questa Gianni ma Gianni ma Ma Che attivo Gianni Ok no Scusa Scusa Gianni Scusa Gianni Scusa 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 Mi raccomando Dai Manda questa qui Al Polo Nord Tieni Te la lascio qui eh Mi raccomando Fai il tuo lavoro Ok adesso Che abbiamo Che abbiamo dato La letterina Gianni Noi ragazzi Finiamo quello Che dobbiamo finire Quindi La torta Ho detto che mancava un po' Di No che scemo Perché non sono andato a prendere Quando ho preso il latte Quando ho preso anche il cuoio Dovevo prima prendere il cuoio E poi il latte Allora facciamo così Lasciamo questa lava qui E quest'acqua qui ragazzi Vado a recuperare Un po' di latte Devo correre Siamo già a mezzogiorno Via 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 Allora aspetta Qui ci mettiamo No aspetta Ci mettiamo queste qua Che bello Ci mettiamo qua sopra Una E due E invece Qui ci mettiamo Queste qua Una e due Perfetto Ok ragazzi Allora cominciamo subito A preparare il cibo Allora qui dobbiamo Due bistecche E un pollo Perfetto Allora Cominciamo a dare a pari Chiari per stessere Qui ci mettiamo Un pollo Qui Qui Che cosa ci mettiamo Qui Allora Sì Il pollo lo mettiamo Lo mettiamo Lo mettiamo Lo mettiamo Lo mettiamo Qui Poi Questo lo mettiamo qui E poi abbiamo Questo qua Che lo mettiamo qui Poi una chest Così ognuno si prende Il cibo che vuole Da qua Una chest Perfetto E dove la mettiamo La mettiamo La mettiamo Qua E ci mettiamo Tutto il cibo Perfetto Facciamo così Così almeno Sembra che abbiamo Cucinato tantissimo Loro non si ne Accorgeranno mai E qua ci mettiamo Questo E qui Questo Perfetto C'è qualcosa Che posso mettere Delle patate Sì così almeno Ripiamo tutta la chest Ok adesso Subito vado a cucinare La torta Anzi no la torta La facciamo dopo Facciamo questi Quattro pezzettini Uno Due Così dovrebbero bastare Mi crafto così Come che si craftano Non è così che si crafta Ecco mettiamo Questo qui ragazzi E questo di qua Così la stella Cioè così Sembra più la stella Qui intanto Togliamo Ok sì sì Entrate pure Tutti quanti Entrate 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 Adesso ragazzi La torta Se non sbaglio Si cucinava Due qua Il latte Lo voleva qua sopra Se non sbaglio E tre così E poi in mezzo Questo Giusto No Aspetta Ok Torta Perfetto Ragazzi Qui ci mettiamo La torta Perfetto Oh cacchio È quasi arrivata l'ora Ma Mi sembra Tutto pronto Per festeggiare Però manca una cosa Ragazzi Manca una cosa Ovvero La zucca Io qua ho un seme di zucca Io lo pianterei Sperando Che cresca Subito la zucca Ma non Ne sono sicuro Ma dove sono tutti Oh la festa è iniziata Dove sono tutti Ehi voi La festa è qui Cosa ci fate qui Cosa ci fate la forza Venite La festa è qui Dai Ehi venite Giacomo forza vieni Giacomo Giacomo vieni Dai la festa è lì Forza Dai che abbiamo inizio Dai forza 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 Non c'è nessuno Doi Cioè io ho fatto tutto questo E alla fine Non è venuto nessuno Mi prendete in giro Eh vabbè Allora so io cosa fare Mangio un po' Mangio per fattirei Non ho neanche tanta fame Un po' di torta? No Sono pieno E beh ragazzi A sto punto Me ne vado a dormire Non c'è più niente da fare Qui non è venuto nessuno Io ho appena parlato tutto qua E niente Ragazzi Dormirò con questi due sconosciuti Buon Natale Buon Natale ragazzi Ok Ma cosa ci fate tutti qua fuori? C'è pure un golem Oh beh Ci sono altri loro Buon Natale Zombie Perfetto Oh ragazzi Io non ci posso credere I regali Ma buon Natale è passato Allora Vediamo un po' Questo è per il cane Ma quante ossa 27 ossa Tutte per il cane È fantastico Vediamo Questo è che è Oh Venom Sei felice? Ho fatto il regalo anche te Vediamo un po' Che c'è qua dentro Ma Questo è carbone Ma Non è vero Dai Eh Venom Hai fatto Hai fatto il bambino cattivo Tu Aspetta Fermo 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 Lavoro un po' di carbone Questo qui Questo qui deve essere per forza Però noi vediamo un po' Queda c'è E la madonna ragazzi Quanta roba c'è È fantastico C'è tutto quello che ho chiesto In più Anche un piccolo bonus Sei pezzi di ferro Sei pezzi di diamante Sei pezzi Seringotti di oro Un po' di esperienza Che la vado subito a utilizzare E anche 4 mili d'oro La zucca Lo scuro di Capitano America E lo standard Ma sei messo a piovere A Natale Ma non è vero Così va meglio Bene ragazzi Adora prendiamo il regalo di Venom E il regalo del cane Andiamo subito A dargli il suo regalo E dopo Vediamo un po' Il mio Ma prima di tutto Amico mio Eccoti le tue ossa Tieni Sono Tutte Quante Per te Se li hai mangiato veramente No Sono tutte lì Bene Invece queste sei Un po' di esperienza Sono Tutte Mie Mettiamo Questi diamanti Qui Quest'oro Qui E il ferro Diciamo che questo qui Mi serviva tantissimo Grazie Buon Natale Quello invece Stendardo di Iron Ragazzi Lo andiamo a posizionare Qui Fantastico Magari Potremmo farne anche uno Per me In futuro E questo è lo score Di capitana Oddio Non è proprio uguale Però Ci può stare lo stesso Andiamo subito a metterlo Nella mia chest Personale E poi ragazzi C'è anche La zucca Ma non è quella Che ho fatto Babbo Natale Mi ha portato una zucca Vediamo se adesso Quello che voglio fare Io funziona Spero non faccia Troppo caldo E spawni Lo stesso Un po' E vai ragazzi Sì sì ma Perché non fa la neve Abbiamo un po' Pazzo di neve Oh scusa Tipo ma se ti do questo Cosa fai Niente Beh ragazzi Allora facciamo subito colazione Però non ho fame Andiamo a mettervi a queste mele d'oro Ma cosa sta combinando il villager Qui Cosa stai combinando Vai via Giovanni Beh ragazzi Direi di terminare qui L'episodio È stato veramente Una bella sorpresa Spero che l'episodio Vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale Con questo video Con i vostri amici E niente ragazzi Non ce n'è da dire Solamente due cose Buon Natale E buon anno nuovo Ciao